Questo video riguarda i migliori tre stepper e mini stepper. Il vincitore della qualità nel nostro stepper e mini stepper va al Proiron stepper. P-R-O-I-R-O-N stepper è realizzato in tubo di acciaio ispessito da 1,8 mm come telaio principale, fissato all'esterno del guscio in ABS. I pedali con fascia a tre lati evitano scivolamenti accidentali e lesioni ai piedi. Il pedale più lungo, 33 cm, è completamente adatto per allenatori di diversi generi. Il pedale è dotato di un cuscino in PVC, utilizzabile con scarpe e piedi nudi. I cilindri idraulici lisci funzionano in modo stabile e fluido, proteggendo il ginocchio da lesioni. La macchina a gradini immisura facilmente il consumo di calorie bruciate, il tempo di allenamento e il numero di fasi di esercizio ed evita il dolore al tessuto muscolare causato da un esercizio eccessivo. È anche un dispositivo di allenamento appropriato per anziani e principianti. Lo stepper P-R-O-I-R-O-N con una dimensione di 55 x 39 x 24 cm e due fasce di resistenza è adatto per l'esercizio di tutto il corpo. In particolare l'allenamento dei muscoli delle gambe, dei fianchi, dei glutei e della parte superiore del corpo. Puoi facilmente trasportarlo e usarlo a casa, ufficio, sala yoga o parco. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Ultra Sport Swing Stepper. Mettetevi in forma in modo semplice e comodo a casa con l'aiuto di esercizi già sperimentati. Lo stepper ha diversi livelli di difficoltà e viene fornito con un computer che consente di elaborare un piano di allenamento efficace. Con lo stepper effettuate movimenti verso l'alto e verso il basso, allenando così la muscolatura di gambe, schiena e glutei, senza affaticare le articolazioni. I cilindri idraulici assicurano un programma di allenamento confortevole e uniforme. Durante l'allenamento il computer conserva tutti i dati importanti. Le funzioni comprendono contapassi al minuto, tempo, scan, calorie. Lo stepper ha una stabile struttura in acciaio ed è dotato di pedaliera anti scivolo extra grandi. Attrezzo per fitness tube, GS, pratico home trainer. Ideale per allenare gambe, fianchi, glutei e torace. Pedaliere anti scivolo extra grandi robusto telaio in metallo. Il vincitore della performance premium nel stepper e mini stepper è il Ultra Sport Updown. Con questo set per il fitness, è possibile mettersi in forma o riacquistarla, in modo semplice e comodamente a casa con l'aiuto di esercizi già sperimentati. Lo stepper ha diversi livelli di difficoltà e viene fornito con un computer che consente di effettuare un piano di allenamento efficace. Portata massima, circa 100 kg. La superficie di appoggio per i piedi, particolarmente grande e non scivolosa, con bordi antiscivolo, permette di allenarsi in sicurezza con lo stepper Ultra Sport. Grazie alle fasce di espansione comprese in dotazione, non solo è possibile rafforzare le gambe, il dorso e i glutei, ma allo stesso tempo l'area delle braccia e del torace. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.